Dal 1962 la laguna di Maracaibo dà anche il nome al ponte in calcestruzzo più lungo del mondo. È un serpente bianco lungo 9 chilometri, che al centro si alza fino a 50 metri per consentire il transito delle navi anche di grande tonnellaggio. La parte innalzata sulla rotta delle petroliere è sorretta da una serie di giganteschi piloni a forma di A. Ognuno di questi poggia sul fondo della laguna ad una profondità di 15-16 metri e il suo vertice, il punto più alto da dove partono i tiranti, raggiunge i 90 metri dal pelo dell'acqua. Il ponte di Maracaibo porta la firma di un ingegnere italiano, Riccardo Morandi. All'ingegnere Morandi abbiamo chiesto di illustrarci il cuore della sua creatura, il pilone. Visto longitudinalmente, l'elemento principale portante è determinato da una grande A. Immaginiamo che questo sia il piano della fondazione. Su questa grande A a un certo momento esiste il piano dell'impalcato, cioè il piano dove scorre il traffico e da questa grande A si dipartono i tiranti. Nell'altro senso, sezionando adesso, facendo questo, chiamerei una vista longitudinale, facendo una sezione trasversale, questa grande A prende naturalmente una forma di questo genere qui perché nell'interno dell'A viene inserito l'impalcato che costituisce il ponte e naturalmente gli due elementi si debbono aprire perché l'elemento non deve determinare ingombro al libero passaggio del traffico. L'ingegnere Morandi ha la cattedra per la costruzione dei ponti presso l'Università di Roma. I ponti sono quindi il suo dialogo quotidiano. Ce ne sono un po' in ogni parte del mondo. In Italia ci piace ricordare quello che collega Genova con l'autostrada di Savona perché assomiglia a quello di Maracaibo. Ha tre maestosi piloni a forma di A, l'inconfondibile firma di Morandi. A proposito, ingegnere Morandi, che lavoro fanno? Beh, io direi che i tiranti che l'A rappresenta l'elemento di appoggio, l'elemento di innesto dei tiranti. Questi tiranti qui sopportano per esempio tutta questa parte, se questa è la metà del ponte, poi c'è l'altro mezzo ponte, questi tiranti, per esempio tutto il peso di questa parte qui del ponte è portato dai tiranti. Questa parte qui è portata da una delle gambe delle A, quest'altra parte dall'altra gamba delle A e quest'altra parte dall'altro tirante. Quindi da questo si vede chiaramente che praticamente la mia luce io l'ho divisa in quattro parti, una parte portata dalla pila, dalla gamba, dall'A, una parte portata dal tirante, l'altra parte dall'altro tirante e l'altra parte portata dalla gamba. Quindi praticamente io tutto il carico che mi sarebbe gravato su questi elementi qui, li porto per metà sul tirante che poi a loro volta, a mezzo del tirante, finiscono poi per gravare sulle fondazioni. Ma chissà quanti punti, uno diverso dall'altro, potevano nascere dalla tecnica e dal calcolo, e forse tutti impersonali e brutti. C'è posto per la fantasia nel lavoro di un ingegnere? E quanto è importante? Il discorso della fantasia, se vogliamo parlare a un certo momento di fantasia, è quello di dimenzionare le varie parti del complesso dell'opera in maniera tale che ne risulti un equilibrio di dimensioni tali per cui ne viene fuori un complesso proporzionato, non solo proporzionato rispetto a se stesso, ma soprattutto, e questo ritengo un fatto fondamentale per noi che ci occupiamo di questi temi, è quello di cercare di legare queste forme risultanti e nate da considerazioni puramente tecniche con risultarne un legame con il paesaggio tale per cui ne viene fuori un insieme paesaggio-opera che a noi sembrano la migliore possibile.